A far bene i conti, i componenti della giunta comunale ad oggi sono sette e non dieci. Tre deleghe sono ancora nel cassetto, in attesa che venga sciolto definitivamente il nodo delle incompatibilità, sollevato a poche ore dalla nomina della giunta targata De Caro. Situazioni di carattere tecnico-amministrativo ottengono in sospeso le deleghe di Pietro Petruzzelli e Angelo Tomasicchio. Per questi due assessori, essendo stati eletti entrambi consiglieri, è necessario attendere la prima riunione ufficiale per formalizzare le dimissioni dalla carica elettiva per poi entrare nell'esecutivo. Il caso che fa più discutere e che sta sollevando qualche polemica è quello di Angela Partipilo, vice sindaco e assessore al bilancio, nonché segretario generale della Camera di Commercio di Bari, con altri incarichi disseminati qua e là in enti partecipati e per la cui nomina il primo cittadino è in attesa di ricevere l'illuminato parere di Union Camere. La Partipilo occuperebbe un discreto numero di poltrone, tanto da intascare indennità che superano i 200 milioni di euro l'anno. Bene ha fatto la Partipilo a rinunciare all'indenità di assessore, pur facendo capire a chiare lettere che, a parte questo, non intende abbandonare gli altri incarichi. È evidente che la Partipilo, presa dai tanti impegni, non sarebbe un assessore a tempo pieno, aspetto che De Caro aveva posto come pregiudiziale. A parte questo, potrebbero sollevarsi questioni di rilievo tra Comune e Camera di Commercio, che potrebbero avere interessi contrastanti. Dunque, per il momento De Caro mantiene la delega della Partipilo nel cassetto. Se da Union Camere dovesse arrivare un parere di incompatibilità, sarà necessario mettere mano all'elenco di donne, dal quale il primo cittadino dovrà attingere nuovamente.